buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora che mi chiede ma dottore la sua ipnosi perché mi sono fatto ipnotizzare ad ogni parte in ogni dove pure il mio problema è rimasto quella che differenza c'è perché per come mi spiegano attimino l'ipnosi dcs perché è fatta io gli ho risposto signora l'ipnosi dcs il metodo dcs o meglio dire il sistema dcs non è per tutti è solo per chi avendo le provate tutte non è riuscito a trovare la soluzione al suo problema per cui non deve venire non devi venire da me se tu hai risolto il tuo problema con un'altra persona un'altra disciplina in un'altra città in un altro pianeta ok non siamo qui ragazzi per convincere nessuno il mio scopo il mio fine la mia mission la mia missione la mia visione è quella di spingere te il tuo caro e chi per te a capire che c'è qualcosa al di là di quello che ti racconta qualche guru ok di quello che ti racconta la televisione come mi ha scritto un signore della germania sulla balbuzie dice dottore ma perché alla televisione non parlano mai di ipnosi la risposta gli ho fatto un'altra domanda la risposta della potere della sola perché con una parola si può magari risolvere quel problema che interesse hanno i poteri forti a far sì che la gente sappia che con le parole anche da soli si può risolvere un problema c'è qualche entrata economica c'è qualche interesse ecco la domanda e la risposta che ti devi dare da solo per cui ritornando al discorso di prima perché l'ipnosi dcs è vera e professionale che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi paura l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista e commerciale a cui io non mi voglio associare anche se sono ottime sono buone sono per delle nicchie tutto quello che vuoi ma non c'entrano nulla con il mio metodo il metodo della dottoressa rina brunini del professor dottore michelanghel garai dell'associazione i prologi associati di los angeles perché il sottoscritto ha iniziato da queste tecniche anni or sono e poi quando è arrivato al metodo di los angeles baby reels che poi è diventato il mio metodo di cesse ho esclamato wow ma dove sono stato fino a qui e ho salvato mio padre con la dottoressa rina brunini colpito da un ictus un ischemia cerebrale dove i medici non davano più speranza come racconto più volte nei miei video e sul mio libro e sulla mia fanpage su facebook comunque ritornando al seminato tu ti do un piccolo grande consiglio ti capisco perché quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca anch'io avevo paura dell'ipnosi diffidavo ero scettico e anche oggi sono come san tommaso se non tocco se non vedo non credo che per cui ti capisco però se tu le hai provate tutte sei andato dai guru sei andato in palestra hai fatto meditazione hai fatto yoga sei andato dalle discipline tradizionali alternative non hai risolto il tuo problema il problema del tuo caro beh che ti costa se ci sono tutti i santi crismi per provare l'ipnosi di cs vera e professionale anche da solo da solo con un audio mp3 dcs se non hai voglia di girare di sentire online dal vivo una sessione di ipnosi perché hai paura magari di essere manipolato e che qualcuno metta le mani nella tua mente come ha detto un signore bene puoi farlo da solo magari con la tua voce nella tua stanzetta premendo play non mettendo la famosa tuta aiutando te stesso te stessa e il tuo caro perché no perché no perché no perché no se sei arrivato e ho arrivata alla fine della fossa scavare a scavare a scavare più giù non puoi andare ma che ti costa considera che l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola riconosciuta come medicina alternativa dell'associazione medica mondiale sottolineo nel 1958 vai a vedere su wikipedia su altre fonti accreditate è riconosciuta dalla chiesa nel 1847 con papa pio non lo dico a chi è religioso e che pensa che sia diavoleria o stragoneria e la si usa anche negli ospedali per l'anestesia per gente che è intollerante ai farmaci documentati perché l'ignoranza non deve sconfiggere la tua speranza e poi anche giovanni paolo secondo papa votile papa polacco se ti ricordi nella sua biografia scritto e che conosceva ha imparato più di 12 lingue grazie all'auto ipnosi all'ipnosi che si faceva da solo ok con degli audio di ipnosi vera e professionale per cui di cosa stiamo parlando tu che pensi che sia diavoleria che sia chissà cosa non è vero nulla è il potere della tua mente che nessuno ti ha detto e ti hanno buttato qui su questa terra come le pecorelle a brucare l'erba e in base a quello che ti dicono come in questo periodo di coronavirus tu abbocchi tu credi e per la paura non esci di casa e fai benissimo però non farti prendere dalla paura perché tu sei più forte del virus ok il virus la paura la psicosi sta nelle menti di chi ha seminato questa paura una signora ha detto sai ma l'economia in questo caso si è fermata hanno dato precedenza alla salute del popolo della gente fatti la domanda chi fa i vaccini e chi ci guadagna alla fine di questa storiella nel mondo nel mondo comunque e attenzione l'ipnosi non è né religione né politica io soltanto voglio trasmetterti il messaggio che non devi aver paura di nulla né di nessuno soprattutto delle tv dei poteri forti di chi semina paura poi le autorità vanno ascoltate devi stare a casa la mascherina tutto quello che vuoi ma non andare oltre perché gli sciacalli di alcuni giornalisti che spargono odio paura e panico non vanno ascoltati devi spegnere quella famosa tv che ti ipnotizza negativamente dalla mattina alla sera fammi tutte le domande del caso per cui tu fai tutto quello che devi fare non venire da me non scaricarti nulla non comprare nulla se vuoi puoi usare il potere delle tue parole come spiego in altri video per uscirte dal tuo problema sarà più lunga ma ci riuscirai fidati credi in te stesso in te stessa e poi se le hai provate tutte prova l'ipnosi dcs vera e professionale anche da solo da solo nel tuo stanzetto che vai sul sito ti scarichi l'audio dcs che fa al tuo caso puoi scaricartene più di uno e metterli insieme ed elimini più problemi alla volta e compagnia bella va bene fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che fa cambiare la vita come è successo a me nel 2008 e a tantissima tantissima gente nel mondo e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino e alla prossima un bacio e un abbraccio